La lusinga di un rendimento giornaliero dall'1,5% all'8% ha tirato come mosca al miele gli imprenditori abbagliati da un facile guadagno. E così un'associazione criminale, composta da un romano, un pordenonese e da una donna dominicana, è riuscita a spillare a vari imprenditori di Lazio, Campania e Friuli, Venezia e Giulia 700 mila euro in pochi mesi. Un meccanismo truffaldino che aveva il fulcro in piattaforme finanziarie create ad hoc e gestite da una società aperta a Londra. La guerra di finanza di Pordenone ha arrestato Stefano Branca, 46 anni, romano, Sergio Toulusso, 54 anni, pordenonese, e posto agli arresti domiciliari Mass Binez Cruz, dominicana, di 43 anni. Le accuse sull'associazione delinquere e abusivismo finanziario, nell'inchiesta coinvolte altre due persone, un romano e un pordenonese. La truffa veniva in modo tutto sommato semplice, presunti consulenti finanziari si facevano consegnare ampi capitali da investire. I primi mesi restituivano ai clienti indubbiamente interessi da capogiro, che altro non erano però che parte del capitale. Poi sparivano con l'intero malloppo. Un gruppo di truffatori molto convincente, finanziere del nucleo di polizia tributaria di Pordenone, hanno accertato che la banda era pronta ad operare in tutta Italia. Hanno sequestrato parecchi documenti, moduli e bonifici, strumenti pronti a gabbare, altri imprenditori avidamente sprovveduti.